Il vento che nel weekend ha sferzato tutto l'Abruzzo ha provocato parecchi danni e ha impegnato anche nella giornata di domenica i vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo. Oltre 30 gli interventi effettuati su tutto il territorio e altri 25 sono in coda. L'area più colpita è stata quella dei comuni di Rosseto degli Abruzzi, Giulianova, Morrodoro e zone limitrofe. Le chiamate arrivate al 115 erano per rimozione di alberi, anche di alto fusto caduti a terra a causa delle forti raffiche, ma anche per rimuovere elementi pericolanti come lampioni stradali, insegne, tende, manti di copertura, antenne e comignoli. Questo ha comportato in diverse vie la chiusura del traffico veicolare in attesa che fossero completate le operazioni di taglio e rimozione. Tragedia sfiorata invece in autostrada dove un albero spezzato è finito su parte della carreggiata sud a circa 4 chilometri dall'uscita di Mosciano Sant'Angelo. Immediatamente il centro operativo autostradale di Pescara ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto con l'ausilio di un autogru. Sempre a Mosciano Sant'Angelo due squadre sono state impegnate nello spegnimento di un incendio di sterpaglie con la collaborazione della squadra dell'associazione di volontariato Gran Sasso d'Italia. Le operazioni andate avanti per tutta la notte sono state rese difficili proprio dal vento. Così per fornire un'efficacia risposta all'emergenza in atto nella serata di domenica sono stati impegnati tutti i vigili del fuoco in servizio operativo ed è stato trattenuto in servizio anche il personale del turno smontante. Al momento la situazione si sta normalizzando ma nei prossimi giorni sono attese nuove perturbazioni.